E fratello Stefano predica anche qui in caserma. E se oggi è un crimine a predicare, io sono il primo a essere in carcere. Se oggi la predicazione è un reato, io sono il primo ad andare in galera. Perché Cristo mi ha chiamato a predicare. E ciò prendiamo forza. Nessuno ci può fermare. I primi cristiani venivano perseguitati. Feriti, incarcerati. E apidati, gettati nel fuoco, nel fosso dei leoni, nelle fornaci. Come Daniele, come i giovani edrei in Babilonia. E' scritto in Daniele. Ma loro dissero, oh re, noi non ci inginoccheremo. Il nostro Dio potente è da liberarsi. Ma anche se non ci viva, noi non piegheremo le ginocchia davanti coi falsi dei. Ma noi serviremo il Dio del cielo. E così anche noi, cari fratello, ci troviamo qui in una cosiddetta caserma. E ci hanno voluto fermare perché predicavamo. Ma anche questo è una testimonianza. La luce. Sei tu disposto ad andare in carcere per Cristo? Amè. Sei tu disposto ad andare anche in prigione per Cristo? Glorio al Signore. Adoriamoci. Cari, può succedere anche questo se noi predichiamo? Amè. Ma è per la gloria di Dio. Alleluia. Alleluia. Amè. Perché per noi vivere Cristo è morire con noi. Alleluia. Vive a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Alleluia. La gioia del Signore è dentro me. Alleluia. Alleluia. Questo è il pericolo. Alleluia. Alleluia. Viene del Signore. Il pericolo a nessuno ci perderà. Alleluia. Ma ne andremo avanti anche nelle persecuzioni. Alleluia. Alleluia. Siamo gioiosi anche qui. Dove ci troviamo, fratello? In una caserma, ma lo spirito è con noi. Per quale motivo siamo qui? Per predicare il Vangelo. Regate per noi. Ma per noi è un onore. Glorio al Signore. Gloria a Gesù Cristo, il Re dei Re. Alleluia. Grazie a tutti. Alleluia. 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 Grazie a tutti.